Una fonte per noi autorevole e tutto sommato forse quasi unica della cucina veneziana, ci arriva appunto dall'anonimo veneziano della fine del Trecento, Cuoco che lascia un manoscritto di 152 ricette, se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, ma permettetemi di controllarla. Sono 135 per la precisione, 135 ricette, dalle quali si intende ovviamente la provenienza del Cuoco stesso e quindi assolutamente del veneziano-veneto, assolutamente operante in città per via della ricchezza di ingredienti data appunto da Venezia capitale, non certo dalla provincia e dalla terraferma che ancora nel Trecento non godeva di grande opulenza. e con l'anonimo veneziano recuperiamo la ricetta direi quasi base della cucina veneziana che è il Saur. Il primo spunto ufficiale lo si trae appunto dal manoscritto di Anonimo che sta nella biblioteca casanatense di Roma a cui abbiamo avuto accesso per vie traverse naturalmente ufficiali attraverso la biblioteca marciana che ci ha consentito di andare a filmare il manoscritto e abbiamo la copia originale in cd quindi per un certo periodo abbiamo fatto vedere anche nel menu qualche breve tratto di scritti originali giusto per dare un po' di colore e anche senso alla proposta. Quindi il Saur compare per la prima volta in Anonimo Veneziano, in Cuoco Anonimo Veneziano libro per cuoco, semplicemente definito così, è il Cisame de Pesse. Cisame de Pesse sta per pesce a pezzi, fritto, conservato, agresto, cipolla, olio relativo e aceto in genere ed era pietanza da poter consumare nel tempo quindi aveva anche l'obbligo del mantenimento che era una dote altrettanto preziosa. Il gusto dolce, quindi l'agrodolce viene appunto dall'uso nel caso specifico del Cisame antico di uva, mandorle e spezie anziché pinoli e zero spezie come si usa a fare adesso ma il tema è quello, è un recupero preciso da questa fonte che è la prima che lo cita. Poi di Anonimo abbiamo numerosi altri esempi, i raffioli per esempio di Derbe, sembra un piatto proposto ieri da un qualche cuoco francese invece tratta di appunto di raffioli cucinati con una base di spezie, ripieni di formaggio, di cascio ed erbe varie, raffioli d'erbe vantazzati questo è il titolo, è un piatto che noi serviamo abitualmente da oramai da dieci anni quasi insieme col saor. Poi devo sfogliare un po' le agliate per esempio, ecco l'ambroino, il pollo, il bramaggere, il biancomangiare e vari altri che sono stati recuperati secondo tempi e modalità date dalla stagione essenzialmente. i vari civili, il civile francese deriva in qualche modo dai civili italiani del 4-500, i potaggi, quindi anche il potage francese arriva dopo le nostre minestre non solo naturalmente veneto-veneziane ma nazionali perché le si ritrova un po' dappertutto e quindi questo percorso ha avuto come origine appunto questo autore perché in effetti è l'unico che scrive in vernacolo, in lingua veneziana per così dire. Tutti gli altri provengono in qualche modo da fuori, sono cuochi dogali, cuochi dei principi che girano le varie corti e operano offrendo e proponendo questa conoscenza che accumulano nel tempo e con ovviamente ricette e cose diverse.